Sono veramente contentissimo di prolungare il mio contratto insieme all'Arezzo perché era quello che volevo insieme alla società. Ripeto, sono felice ed orgoglioso di continuare a far parte di questa società, che mi abbiano scelto di continuare questo percorso insieme a loro in questo progetto. Mi fa piacere che essendo un vecchio esperto mi hanno anche dato la fascia di capitano, questo aumenta di responsabilità, però come ho sempre detto sono sempre sereno e tranquillo e cercare di dare sempre il massimo per l'Arezzo. Hai visto un bello spirito stasera anche tra i più giovani? Sì sì assolutamente, io sinceramente sono contento perché era la prima gara dove eravamo anche un po' come si può dire, stavamo aspettando di misurarci con un avversario di pari livelli perché comunque la lucchese la troveremo nel nostro campionato avendo fatto amichevoli solo per minutaggio e ritiro con tutto il rispetto. Quindi sono fiducioso perché come prima gara ufficiale abbiamo tenuto bene il campo, siamo stati sempre ordinati, è normale che c'è tanto da migliorare ma c'è tutto il tempo per farlo. Insieme al mister sicuramente cercherà e interverrà dove ritiene opportuno per migliorarsi ancora perché questo è un gruppo che lavora bene, stiamo lavorando da tre settimane intensamente e sicuramente faremo ancora meglio in futuro per arrivare al top del campionato.